Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo giunti in un posto molto molto particolare, Pesco Rocchiano. È un comune che ha tantissime frazioni e siamo qui in compagnia del sindaco. È una donna meravigliosa. Eccola qui per voi, ve la presento. Buonasera a tutti e grazie di essere venuti nel mio territorio. È un piacere per noi poter vedere le bellezze della provincia di Rieti. E qui devo dire che di bellezze ce ne sono tante. Come ci giriamo c'è una particolarità. Ci sono montagne, ci sono vallate, ci sono colline. Più giù c'è anche il lago. C'è veramente bellezza a 360 gradi a livello naturalistico. Dicci qualcosa di questo paese perché i nostri amici sicuramente vogliono conoscere nel vivo appunto la storia o comunque anche semplicemente le caratteristiche. Questo è un comune di 27 frazioni. Molto distanti e molto differenti tra di loro ma questa è la particolarità e la bellezza di questo luogo. Già da qui e guardando, inquadrando, possiamo vedere appunto la vastità del territorio. È un territorio pieno di natura e di tutto ciò che è il bello di vivere. Cioè la vita vissuta in un modo diciamo un po' più tranquillo. Ma un modo che riempie l'anima e riempie il cuore. Questo comune nasce nella provincia di Rieti. Prima era un comune che veniva da un territorio abruzzese. Perciò ci accomuniamo molto con l'Abruzzo. E questa è una delle peculiarità comunque di tutta la Valle del Salto. Abbiamo il lago del Salto che conoscete penso tutti. E il nostro territorio ha fortunatamente parte del lago. E abbiamo quattro frazioni che stanno proprio sul lago. E sono delle vere e proprie terrazze su quel bellissimo posto. E cosa altro posso dirti? Qui ogni frazione ha una sua peculiarità. Dal cibo alla natura, alle caratteristiche proprio delle persone e dialetti. Cioè qui abbiamo un numero di dialetti impressionanti. E il bello è che siamo però tutti una grande famiglia. Cioè qui proprio si sente la comunità. Intesa proprio come vicinanza delle persone e amore del territorio. Abbiamo moltissime famiglie giovani che stanno tornando. E stanno investendo soprattutto per quel che riguarda l'agricoltura e l'allevamento. E questa cosa ci fa un enorme piacere. Abbiamo in quest'ultimo, posso dire, fatto un calcolo adesso, i bambini da 0 a 3 anni sono arrivati a 51. E per un comune piccolo come il nostro è veramente far festa. Perché qui si sta bene. E lo dico non da primo cittadino, ma da abitante di questo posto da sempre, da 40 anni. E' un posto dove quando vieni rimani, spero, stupita. E dobbiamo far venire la voglia di venire e soprattutto di tornare a vivere qui e a visitare questo posto per tutti coloro che hanno voglia di staccare dalla routine che può essere normalmente una città. E' vero, è vero. Sappiamo anche che comunque è vicino Roma. Quanto dista? Allora, l'uscita a Valle del Salto, che è nel comune limitrofo che è Borgorase, dall'uscita di Tivoli, vanno all'incirca a 45 minuti. Noi siamo un po' baricentrici perché da Rieti abbiamo l'incirca, siamo a 30 minuti. 30 minuti dall'Aquila, un quarto d'ora da Vezzano e la nostra parte retro confiniamo con la zona del Carzolano. Perciò rispetto a Carzoli siamo a 20 minuti. Cioè è una posizione ottima da raggiungere e grazie soprattutto alla viabilità abbiamo superstrada, autostrada che permettono comunque di raggiungere questi comuni, tutti i comuni della Valle del Salto in modo molto agevole. Bene, bene. E l'inverno c'è la neve. Qui i bambini veramente sono felici perché è come se fosse la casa di Babbo Natale. Quest'anno, come dicevo, forse per il fatto del lockdown dello scorso anno, perciò anche l'ambiente ha respirato in modo diverso, abbiamo avuto l'inverno vero e proprio. Erano anni dopo la famosa nevicata che non nevicava più e quest'anno invece in un paio di mesi siamo stati comunque in compagnia della neve. Poi questo è un comune anche che ha diverse altitudini, perciò abbiamo Leofreni che è il paese più grande, più alto, perdonati, che ha avuto la neve per un periodo più lungo. E è stato comunque bello perché può tornare i bambini per tutti. È vero, è vero. Adesso siamo qui in mezzo, veramente ai monti, ma soprattutto è cullate dal vento. È una cosa bellissima. Mi tengo il cappello, è una sensazione che non provavo da quando ero piccola. Bellissimo davvero. Complimenti per questo posto, un paradiso veramente ad alta quota. Vi consigliamo di venire qui per respirare aria buona, per mangiare veramente piatti tipici, ma soprattutto per godere del sorriso di una sindaca così simpatica e di tutti gli abitanti del luogo. Grazie. Bella.